Un paese grande ha strade fatte di volti, perché dietro le conquiste che lo hanno reso moderno, dentro i luoghi che lo hanno fatto rispettabile, ci sono le persone che lo rendono vivo ogni giorno. Battono i milioni di cuori che ne hanno fatto un grande paese. Sì, sono proprio coloro che sono sempre fuori ufficio. Sono quelli che si preoccupano solo dell'orario e non ci mettono neanche la faccia. Sono quelli che passano il tempo a disegnare sui muri. Sono quelli uomini e quelle donne con cui abbiamo fatto i conti sin da bambini. Quelli che spengono i nostri ardori. E quelli che amano far chiacchiere. Sono quelli che si occupano degli altri. E con il proprio lavoro garantiscono i diritti di ognuno e richiamano tutti ai loro doveri. Sono la mente che fa funzionare il nostro paese e l'anima che ne rende possibile la democrazia. Un paese ricco davvero il nostro, perché ha un grande capitale sociale al suo servizio. I lavoratori della pubblica amministrazione. Italiani che lavorano per l'Italia. Liturgia 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 Grazie a tutti